Tragico incidente a catena su un'autostrada nel nord-ovest del Belgio a causa di un fitto banco di nebbia. 50 i veicoli coinvolti nei due sensi di marcia. Le autorità delle fiandre occidentali parlano di due vittime e di altre sei persone in gravissime condizioni, oltre che di una cinquantina di feriti.